La scuola vicentina in lutto per la morte di Gianna Marisa Miola, avvenuta nel fine settimana a causa di una grave malattia che l'aveva colpita da molto tempo, è stata per 13 anni preside dello storico liceo Brocchi di Bassano dal 1988 al 2001, per poi dedicarsi da dirigente scolastica a ruolo di vice direttore generale dell'ufficio regionale per il Veneto. Aveva compiuto 71 anni ed era altopianese per la precisione di Enego, l'apprezzata insegnante di storia e filosofia dopo gli studi classici e la laurea a Padova, conseguita a 22 anni, lascia il marito Gianfranco Cortese, professore a riposo e il figlio Fulvio, docente universitario di diritto a Trento. Nel secolo scorso aveva raggiunto notorietà oltre i confini del Veneto per essere stata la più giovane preside d'Italia, ruolo ricoperto al liceo Manara Valgimigli di Montebelluna, nel Trevigiano, prima di passare al Brocchi, assumendo lo stesso prestigioso incarico in uno degli istituti più rinomati. Il suo impegno nel settore della pubblica istruzione le valso l'onorificenza di Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 1999. Dopo aver concluso 16 anni alla guida dei due dicei che oggi la ricordano con affetto, la professoressa Miola è stata chiamata a svolgere importanti funzioni a livello regionale nazionale fino al maturare della pensione come punto di raccordo tra le scuole del territorio del Ministero della Pubblica Istruzione.